Ce l'avete presente quel birbantello che ogni tanto appare nei miei video? Ciao Iacopini! Adesso me ne vado! Ecco, l'altro giorno, non so se avete visto il mio Instagram Stories, perché era pieno di queste cose... E' un video, Iacopini? Non so! Ah, volevi! Ecco, nel caso non si fosse capito, ero appunto con lui, abbiamo registrato una prova a non ridere challenge, cioè l'ho fatta con lui la prova a non ridere challenge, era per vedere come sarebbe uscito, un esperimento, mettiamolo così. Vi lascio al video ragazzi, buona visione! E allora adesso facciamo questa cosa, se ridi hai perso, non devi ridere, guardiamo lo stesso video e non devi ridere, ci sei? Se ridi hai perso, vai partiamo! Non vale perché ho guardato te! Senti, spossa questa cosa! Perché? La lasciamo? Lasci, lascio, lascio! Aspetta, Iacopo! Questo era bellissimo! A me il parito è lui, mi parito, mi parito se ti guardo! Ho resistito, ho resistito, sì sì no, va bene, tutto si è. Sei bravo! Wow! Io ho resistito, ho resistito! Sei stato bravo! No, è stato liberissimo! era bellissimo dai dai ma cos'è sei bravo e ti stai tenendo questo era bello cos'era che figata assurda questo era bello dai vabbè ha perso lui che brutta cosa ho visto sono stato bravo ma perché ma poverino siamo pari eh cos'era un respiro dobbiamo farlo insieme a tre uno due tre adesso sei pronto questa è una sfida per veri eroi ci sei? cos'è? cos'è? è atletico? no che schifo che schifo cosa ho appena visto bruttissimo che schifo cosa ho appena visto bruttissimo cos'era? cos'è? con questo hai perso con questo hai perso no ma anche te eh vabbè hai risinorato vado di più la tua nooo no veramente e ora hai resistito non ci posso non è possibile non è possibile un genio beh è stato figlio chi ha vinto? io come io? hai viso due ore hai viso cos'hai vinto? adesso ci troviamo ma come l'altro? ho vinto io ho vinto io io ho resistito ho resistito no ma c'è un chiri da vincere eh vabbè così è facile vabbè grazie no ma davvero ma quanto ho messo sto gatto? quanto l'ho messo il gatto? cos'è un drone? bellissime questo è un minion non è vero bellissimo questo era bellissimo questo era bellissimo cos'è sta cosa? è un pokemon lo fai meglio tu albero? ah bruttissimo questo era bruttissimo no non ci credo questo no aspetta questo lo voglio rivedere ah lo farai vedere lui no va bene non ho parole veramente mi fa male no veramente la vuoi anche tu una papera così? no io so che mi voglio un papagallo vuoi un papagallo? si come un papagallo? che te ne fai? ahahahah cos'è sto cane? è bellissimo no non si credo ti sembra questo un pochettino? no questo è più bello ecco soprattutto più intelligente si sincero sincero chi ha vinto? ma non è vero non è sincero ho vinto io allora facciamo così decide chi ha vinto carta, forbice e sasso ok però non vale non ci credo di sicure carta, forbice e non vale lo mettete di sicure dai li facciamo li facciamo li facciamo li facciamo carta, forbice, sasso quindi ragazzuoli il video si conclude qua ovviamente ho vinto io perché c'è ci rifacciamo con la prossima volta vero? no perché so che guarderà questo video quindi Jacopo la prossima volta rifacciamo e vinci tu forse forse va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto come se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche la pagina di facebook come nel video è stata nella descrizione senza averci iscriviti e ci rivediamo al prossimo video bella ragazzi e ci rivediamo e ci rivediamo e ci rivediamo